Salve dottore come va? Io uguale, stanca, so di aver esagerato, ho spento tutte le mie forze e adesso ho una convalescenza lunghissima. E' un casino, perché dormo di giorno e di notte giochi così a balla, anche prendere un bicchiere d'acqua per me è uno sforzo terribile, poi me lo dicevano. Non ti sforzare tanto, non ti sforzare tanto che crollerai, infatti sono arrivata all'esaurimento nervoso, ma adesso ho bisogno anche di un'infermiera perché non posso andare nemmeno in bagno, non ho più la forza. Per di più, non so pregare Dio, quindi non ho altre fonti dove attingere, per chiedere, o per ringraziare, o per ciò che sia. Ma vorrei stare meglio e non so come fare. Me l'ho detto che c'è un fiore di baci che ripristina la rigenerazione fisica e mentale. Sono stanca, 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 stanca. Come quando avevo partorito. Come quando ero uscita da quella influenza che non voglio nominare. Di nuovo eccomi qua, convalescente, stanca, sfinita. Perfino gli occhiai, guarda. Non sono mai stata così. Comunque, sto seguendo le sue cure. Avrei bisogno di tornare ad aiutare le persone che stanno male e sono più anziane di me, ma non ce la faccio. Anche alzare un ago, solo il pensiero mi diventa qualcosa di estremamente stancante. Sono stanca. Sono molto stanca. Non ho voglia nemmeno di mangiare. Mi sembra mi���o mi circostante. Tutto la ultima. Non ho